Oltre un milione di euro per la prevenzione degli incendi nei boschi, questo quanto stanziato dalla regione toscana per la provincia di Arezzo. Entrando nel dettaglio, all'Unione dei Comuni Montani del Casentino vanno 498 mila euro, all'Unione dei Comuni del Prato Magno 319 mila ed infine all'Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana 273 mila euro. Le risorse stanziate, afferma Lucia De Robertis, sono destinate a coprire varie tipologie di spese sostenute per tutelare il territorio boscato, dal rischio incendi, dalle visite mediche per il personale impiegato al suo addestramento, dalla copertura assicurativa alla reperibilità. Inoltre questi soldi sono destinati alla manutenzione degli invasi per l'approvvigionamento idrico, alla realizzazione di viali parafuoco, alla manutenzione della viabilità del servizio e della fondamentale rete di comunicazione radio. Una parte delle risorse poi finanzia gli interventi pubblici forestali previsti dal piano agricolo regionale, previsti anche circa 13 mila euro a beneficio del Comune Aretino per le convenzioni col volontariato antincendio per il periodo luglio-agosto. Il tema della prevenzione degli incendi nei nostri boschi, conclude De Robertis, è fondamentale, a maggior ragione in presenza delle note difficoltà che si sono manifestate per l'attuazione degli interventi di taglio e cura del bosco a causa dell'ormai nota pronuncia del Consiglio di Stato sull'autorizzazione paesaggistica, difficoltà che come Regione stiamo provando a superare con due iniziative legislative presentate dal Partito Democratico che la prossima settimana esamineremo nella mia commissione.